quando fa la rapina di Viosopoli, io avevo vent'anni, Cesaron Castigliotti la gente che frequentava anche il mio local, il crimen bar di Vianuara Baccia, Vianuara, all'epoca era un posto e insomma, sai io, come dici, non rubavo i nostri camionetti cominciai per caso, perché ognuno la sua io ho cominciato per caso, perché la prima rapina, la prima rapina, nemmeno ho fatto un prestito, perché la mia zia Vittoria mi ha mandato a pagare la buletta della Luz mi ha mandato a pagare la buletta della Luz io viaggiavo con la Cadillac, che tengo a rammentare già nel 57, 58, una Cadillac, americano, sai e sai, sono figlio del dopoguerra, avevi l'abitudine in sé, tutti i partigiani lì parlavano sempre di Saero non c'era la pistola, non c'era la pistola no, io avevo una Smith Wesson, ma non c'era l'abitudine allora, quando andavo a ballare la sera, qui a Tuzanet, che facessi il tiro angolare per fare il macchio, per fare il burro automaticamente, la mia zia, un bel tiro a me fa ciao, ehi, Luciano, da quanto hai comprato il macchino lì ti paghi più nella bolletta della tua zia Vittoria, di qui da là quel giorno vado per pagargli la bolletta pioviginava, era sotto 7 o 8 di dicembre 6 o 7 di dicembre, insomma ma no, qualche giorno prima insomma, entrò, sai, parcheggio, pioviginava, che eri spulverito poi i blood una volta col cappellino, non so se ti ricordi carta di zucchero, bravo, allora cosa succede? pioviginava, metto sul cappello una cosa e entro dentro un ufficio postale per andare a pagare la bolletta cappello gioco? no, nemmeno il cappello non entravo per entrare e far compiere una cattivazione cosa succede? Budenter e Casera era lì a Menau un Olivetti, sai, qui lì una volta a Manuela ti ticchi 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 e se mi vado, mi sto lì un po' come un bambino sai, mia madre era dottoressa in farmaceutica era un figlio di buona famiglia non venivo proprio, sai, dalla leggera stavi bene la famiglia insomma, un bel momento questi se mi vado, vado una pagata sul banco allora, se mi vado, fu per tirare a ferra e cosa, questi vado la pistola mi fa sì 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 sì, si gira e comincia a darmi lì i massi e allora mi fa prenda, prenda io non riuscivo a ricepire prenda che cosa che dì, prenda che cosa dai, c'è, c'è che prenda pulire la macchina quasi beh, una cosa o l'altra mi fa prenda tutto, prenda tutto, prenda tutto e ho fatto scossa lì è stata la mia prima ringrazio